Tieni freschi tuoi freschi, con il nuovo servizio freddo gratuito. F3 ti offre la possibilità di mantenere integri i vostri acquisti, come surgelati, carne, frutta e latticini, fino a casa. Con una piccola cauzione che ti verrà restituita, ti verrà dato in gestione un frigo termico con due ghiacci termici, che puoi utilizzare per tutto il periodo estivo, oppure riconsegnare di volta in volta. F3 si prende cura della tua spesa fin dentro casa tua. Tieni freschi i tuoi freschi, chiedi informazioni alle casse o al box informazioni.